Ciao a tutti Orchetti, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò tutte le locazioni della mappa dove si trovano i luoghi proibiti, dove dovete ballare per completare la sfida balla in diversi luoghi proibiti della settimana 2 del pass battaglia della stagione 3 su Fortnite. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi sui social, sulla pagina Facebook, su Instagram e sul canale Telegram, trovate tutti i link in descrizione e a lasciare un bel mi piace al video, grazie a tutti quelli che lo faranno. E iniziamo subito! I luoghi proibiti del ballo presenti nella mappa sono 13. Ecco qui l'immagine con evidenziati i luoghi proibiti dove dovete ballare per completare la sfida. Voi dovete recarvi in uno di quei luoghi proibiti. In quel luogo dovete trovare questo cartello dove c'è un tizio che balla con una striscia rossa sopra, ovvero il cartello del divieto del ballo. E davanti a questo cartello dovete selezionare un ballo che avete nell'inventario. E dovete fare questo 5 volte in 5 punti diversi. Perciò dovete recarvi in 5 luoghi proibiti diversi che avete visto nell'immagine evidenziati pochi secondi fa e ballare davanti a questo cartello. Il cartello del divieto del ballo lo dovete trovare nel luogo proibito. Se volete completare questa sfida più velocemente senza dover cercare il cartello del divieto del ballo nel luogo proibito, potete recarvi in questi 5 luoghi proibiti davanti a questi 5 cartelli del divieto del ballo che vi sto mostrando ora nel video. Quando avete ballato davanti ai cartelli del divieto del ballo in 5 luoghi proibiti diversi, avrete completato la sfida e riceverete 5 stelle per aumentare il livello del pass battaglia. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciate un bel pollice in in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi sui social, sulla pagina facebook, sul canale telegram e su instagram. Trovate tutti i link in descrizione e da Orku Verde tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!